Ora io passo la parola a Eleonora Artesio, è stato detto all'inizio con una lunga esperienza dell'amministrazione locale, già assessora al Comune di Torino e poi alla Regione Piemonte. Prima di passarle la parola, naturalmente invitandola anche lei a rimanere entro il quarto d'ora 20 minuti, volevo ricordare a chi ci segue che dopo l'intervento di Eleonora Artesio ci piacerebbe aprire al dibattito, quindi sentire anche le vostre domande, preferibilmente o i vostri interventi. Vedo collegati anche degli amministratori locali perché forse non l'abbiamo detto all'inizio, ma il forum, tra le altre cose, ha promosso anche una petizione con altre realtà, penso ad Attac, per l'adozione, la votazione di ordini del giorno, emozioni, per appunto anche nei comuni, nei consigli comunali portare questi temi. Quindi spazio aperto e soprattutto per questo cerchiamo di rimanere entro le 22.10, in modo tale poi da aprire a un'altra, direi, mezz'oretta di dibattito al massimo, per non andare troppo lunghi. La parola ad Eleonora Artesio, grazie. Grazie, mi sentite? Sì, la sentiamo, non la vediamo ma la sentiamo. Benissimo, grazie. Intanto grazie per l'invito, spero di corrispondere alle aspettative rispetto alla previsione dell'intervento del sindaco Lucano. Mi è stato chiesto di ragionare in merito al ruolo delle amministrazioni locali e in modo particolare al ruolo delle rappresentanze istituzionali, alla luce di questa innovazione tra virgolette, introdotta dal DDL concorrenza. Io farei questo tipo di premessa, è del tutto evidente, lo si diceva prima, che siamo di fronte ad uno stravolgimento paradigmatico delle modalità con le quali gli enti locali programmano, programmavano, organizzano, organizzavano lo svolgimento delle proprie funzioni di governo dal punto di vista della programmazione territoriale e dell'organizzazione e gestione di servizi e di prestazioni. laddove la regola era la responsabilità del far fronte alle richieste di esigibilità dei diritti attraverso un'articolazione di funzioni nel proprio territorio, con una responsabilità di governo diretto di questo tipo di servizi e con una contestuale adozione di investimenti, di dotazioni organiche, di interventi nell'ambito della formazione e delle professionalità, alla luce del rispetto di quei principi che venivano ricordati precedentemente dalla professoressa, vale a dire la possibilità di costruire un territorio capace di consentire l'autodeterminazione delle persone alla luce di un principio di contrasto delle diseguaglianze e di promozione delle opportunità individuali. Lo stravolgimento sta nel fatto che in questo nuovo contesto la condizione che viene qui proposta è quella di adottare una modalità di governo dei servizi pubblici locali, condata sul principio dell'esercizio dell'iniziativa privata nell'ambito appunto della tutela della concorrenza, assumendo come dato di fatto che necessariamente l'iniziativa privata risulti essere capace nei termini di efficacia e di efficienza e altrettanto subordinando l'idea che questi stessi modi di esercitare quelle funzioni possano ugualmente corrispondere ai principi democratici che prima venivano qui ricordati. Quindi siamo di fronte ad un rovesciamento paradigmatico, se prima in un consiglio comunale si chiedeva laddove un'amministrazione avesse inteso delegare a terzi la gestione di propri servizi di motivarne le ragioni, adesso siamo nella situazione decisamente opposta, quella cioè nella quale le pubbliche amministrazioni devono motivare pubblicamente la ragione per la quale non affidano a terzi la gestione di servizi pubblici locali. Allora questo rovesciamento di paradigma che qui viene ricordato anche come un principio di responsabilità assegnato ai pubblici amministratori per una mancata o insufficiente reazione, mi fa piacere peraltro di leggere che molti livelli locali dalla città metropolitana al consiglio comunale, a molti consigli comunali, alla delegazione dell'Anci chiedono lo stralcio dell'articolo dal DDL, ma nel momento in cui giustamente si richiama un principio di responsabilità dei livelli istituzionali, la domanda conseguente è come si sia potuto arrivare fin qui, come sia stato possibile arrivare ad un tale rovesciamento di paradigma. La questione dal mio punto di vista è riconducibile a un movimento carsico che sta attraversando tutto il tema della democrazia rappresentativa da ormai molti anni e che da altre tanti anni sta coinvolgendo la costruzione di un senso comune a livello di opinione pubblica relativamente alle modalità di gestione pubblica dei servizi e delle prestazioni. Mi spiego meglio. Noi siamo di fronte ad un sistema, quello delle autonomie locali, che dovrebbe rispondere a due mandati fondamentali. Il primo mandato è quello della rappresentanza, l'altro mandato, complementare al primo è quello dell'esercizio delle funzioni di governo nell'ambito delle materie di competenza che sono delegate o in capo diretto all'amministrazione comunale. Sul primo principio, quello della rappresentanza. Non possiamo negare in un dibattito attento come quello di questa sera quanto il tema della rappresentanza che è intimamente connesso al tema della partecipazione politica sia stato profondamente attraversato da numerosissime contraddizioni, la prima delle quali è il sacrificio della rappresentanza al principio della governabilità. Veniva ricordato precedentemente l'elezione diretta del sindaco, le soglie di sbarramento, i premi di maggioranza in relazione al principio di governabilità, stanno facendo passare in secondo piano la realtà concreta che abbiamo sotto gli occhi e la realtà concreta che abbiamo sotto gli occhi è quella di sindaci eletti direttamente da una percentuale di popolazione che non è affatto rappresentativa dell'insieme della popolazione da amministrare. E questa questione, anziché essere una preoccupazione immanente degli eletti all'interno delle istituzioni, sembra essere piuttosto un fisiologico segno dei tempi. Cioè una di quelle questioni alle quali ci dovremo rassegnare perché nelle moderne democrazie la partecipazione politica per la determinazione dei livelli istituzionali non è così significativa ed importante quanto è invece la governabilità per il periodo dell'intero mandato, cosa che sarebbe assicurata dall'elezione diretta del sindaco, dalla lealtà di una maggioranza consigliare e quindi dalla possibilità di proseguire per il numero di anni definiti da quel determinato mandato. Quindi quel principio che ci veniva ricordato fondativo nella Costituzione dell'autodeterminazione territoriale che si muove attraverso la partecipazione e che in quei canali determina la propria rappresentanza è oggi già in sé un principio profondamente violato. Quindi il primo tema è quello della rappresentanza e della partecipazione politica, stiamo parlando di una questione profondamente culturale e sociale che riguarda la fiducia con la quale le persone possono ancora decidere di prendere parole e assumere impegni per l'interesse generale per cooperare alla costruzione di un bene comune. Il secondo tema è quello che riguarda il governo territoriale di servizi, di prestazioni, di servizi pubblici locali. Anche da questo punto di vista le questioni da ricordare sono di due profili, una questione di tipo verticale riguarda le relazioni tra i livelli istituzionali superiori e le amministrazioni comunali, l'altra è di nuovo dal mio punto di vista di tipo orizzontale, cioè di tipo culturale, costruzione di senso comune e di opinione pubblica intorno al tema della gestione in house o meglio della gestione diretta dei servizi pubblici locali. La prima questione, stiamo uscendo, Attac lo ha detto da moltissimi anni e ne ha fatto anche una piattaforma politica che in alcune amministrazioni locali è stata ripresa dalle formazioni politiche, i comuni sono stati in particolare i donatori di sangue o i portatori d'acqua, usiamo i termini che si preferiscono, rispetto al tema della compatibilità economica e del pareggio di bilancio, cioè a fronte delle condizioni della finanza il tema della compressione della finanza locale è quello che più di tutti gli altri interventi di cosiddetta razionalizzazione della spesa pubblica ha pagato al principio del pareggio di bilancio. Vorrei ricordare quante sentenze sono state richiamate e quante iniziative sono state adottate dagli enti locali per affermare che i diritti vengono prima del pareggio di bilancio e per sostenere che l'obiettivo e la stella polare del pareggio di bilancio hanno oggettivamente compresso l'esercizio dei diritti e l'esigibilità degli stessi. Quindi gli enti locali nella possibilità di un governo diretto delle funzioni proprie hanno subito un attacco pesantissimo sul piano della riduzione dei trasferimenti e della richiesta di cooperazione al tema generale della compatibilità della finanza. La seconda questione riguarda il modo con il quale questa pretesa imposta agli enti locali negli anni si è esercitata ed è un modo che è andato ad intaccare pesantemente il patrimonio principale degli enti locali che è quello della loro dotazione di risorse professionali, di intelligenze tecniche, di relazione tra queste figure professionali del pubblico dipendente in rapporto al territorio da cui riceve anche egli come pubblico dipendente un mandato di rappresentanza facendo sì che l'intera dimensione di organici degli enti locali venisse via via deprivata con misure legate al tetto di spesa del personale, con misure legate al mancato rinnovo del turnover, con misure legate alla precarizzazione delle partecipazioni professionali anche di alto livello o di elevata qualificazione assunte più a contratto a termine per finanziamenti di progetti europei che non stabilizzate all'interno della dimensione organizzativa dell'ente locale. Quindi questo indebolimento oggettivo che è maturato all'interno degli enti locali, dal mio punto di vista oltre a essere un danno sull'esercizio delle funzioni proprie da parte del Comune, è anche un ulteriore elemento di indebolimento dei temi della partecipazione politica. A Torino si è da poco, nel mese di dicembre, celebrato un evento di grande interesse per un segmento professionale fondamentale degli enti locali che è quello dei servizi sociali, la cui parola d'ordine era il lavoro sociale o è un lavoro politico o non è. Questo sta a dimostrare che il tema delle competenze professionali pubbliche ha certo un valore nel senso che si hanno figure capaci di fare, di fare e di controllare, ma ha un valore anche per il tipo di interpretazione del mandato pubblico e di interesse generale che quelle figure professionali rivestono. Ora, in questo quadro di indebolimento che arriva dall'alto, quindi arriva da un processo verticale, come in un circolo vizioso, si instaura il tema della delegittiminazione del pubblico, un tema culturale su cui credo di non dover spendere molte parole, ma di nuovo qui torna la questione della consapevolezza e della partecipazione. Questo pubblico molto spesso e frequentemente rappresentato, più per le proprie difficoltà, carenze e se si vuole anche vizi, ma non rappresentato per le finalità per le quali si è determinato fondativamente e si organizza nell'arco del tempo. Quindi, in questo momento, quando si pone la domanda ma come si deve resistere e reagire ad un'operazione che cambia completamente il paradigma, che subordina la responsabilità del pubblico, sia dal versante della rappresentanza che da quello del governo, al tema del mercato e al tema della concorrenza, come si deve reagire? Beh, a me vengono in mente esattamente due questioni. La prima questione è quella della resilienza barra resistenza di tipo istituzionale e un buon lavoro certamente è stato fatto da tutte quelle assemblee elettive che hanno adottato degli ordini del giorno e delle controproposte e chiedono la sospensione della trattazione dell'articolato del DDL su questo punto. Vuol dire costruire consapevolezza, sensibilità, dibattito generale, spesso anche in modo trasversale rispetto alle aggregazioni delle diverse maggioranze dei consigli comunali, quindi rafforzando il principio dell'autonomia rispetto al tema della lealtà alla compagine governativa. La seconda questione è quella, ahimè, di lungo periodo e di lunga lena, cioè ritornare a ragionare sull'esercizio delle funzioni pubbliche in capo alle autonomie locali e della necessità che queste trovino fondamento e vigore nella partecipazione politica ricostruendo il tema della partecipazione a livello territoriale. Quindi io vedo sostanzialmente in questo momento particolare di passaggio una questione che parla nello specifico allo stravolgimento del significato delle parole. Il termine della libertà non è quello della libertà della persona dai vincoli che si frappongono al pieno esercizio dello sviluppo della persona umana, ma è inteso come libertà del mercato. Il termine di soddisfazione di bisogni primari non è letto alla luce del superamento delle diseguaglianze che si frappongono, ma alla luce di un presunto principio di efficacia e di efficienza che viene istintivamente quasi collocato in capo al privato e siamo persino oltre quello che almeno in Costituzione veniva introdotto come limiti alla libertà di impresa. Qui appare una condizione di universo illimitato di esercizio di quella libertà a fronte del giudizio che questo sia necessariamente efficace ed efficiente. Quindi tutto questo, ripeto, si insinua profondamente in un terreno che è stato profondamente inquinato nella cultura da moltissimi anni e sul quale credo che la forma migliore per la reazione non possa essere che parallelamente una resistenza istituzionale e la ripresa di un lavoro culturale e politico. Ho finito. Grazie, grazie davvero a Eleonora Artesio per il suo intervento e anche per essere rimasta perfettamente nei tempi. a Eleonora Artesio